Il Mediterraneo è interessato da un campo di alta pressione che determina condizioni di stabilità e temperature in linea con la media del periodo. Alta pressione che nei prossimi giorni sarà supportata in quota da un promontorio di natura africana. Pertanto avremo una maggiore ingerenza delle correnti calde dal Nord Africa con conseguente aumento delle temperature. Il flusso di correnti umide scorrerà oltre Alpe e interesserà solo marginalmente le nostre regioni più settenzionali. La stagione estiva dunque entrerà in scena dopo le incertezze che ha mostrato nella prima parte di giugno. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Le giornate di sabato e domenica saranno pressoché identiche e possiamo sintetizzarle con una sola cartina. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque con ventilazione debole di direzione variabile. Temperature in lieve aumento con valori massimi che nelle aree interne supereranno i 30 gradi centigradi. Mare calmo al mattino con lieve aumento del moto ondoso nel corso del pomeriggio. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà a rinforzarsi ulteriormente con un promontorio in quota in espansione verso le nostre regioni meridionali. Caldo in aumento e tempo stabile ci accompagneranno per l'intera prossima settimana con AFA in accentuazione tra mercoledì 1 e venerdì 3 luglio. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it